Ora è arrivato anche l'ok della prefettura di Mantova alla richiesta del comune di Castiglione dell'Estiviere. Cambierà presto nome la via intitolata al generale Pietro Maletti, originario del paese. Medaglia d'oro al valore, ma anche tra i responsabili del massacro del monastero di Debreli Banossi in Etiopia nel maggio 1937. La via sarà dedicata alla pedagogista Maria Montessori. La richiesta, approvata ad unanimità dalla giunta, è nata dopo l'emergere di nuovi elementi storici sui crimini commessi dai militari italiani in Etiopia. In particolare Debreli Banossi, il docufilma di TV2000 realizzato dal collega Antonello Carvigiani, ha svelato come le truppe comandate da Maletti, dietro un preciso ordine del vicerere Rodolfo Graziani, uccisero migliaia tra monaci, preti e pellegrini cristiani ortodossi, riuniti proprio nel monastero di Debreli Banossi per una festa religiosa. Si trattò della più grande strage di cristiani mai compiuta in Africa. Da lì, ribadisco, sia su stimolo dell'amministrazione, sia su stimolo anche di cittadini, di associazioni, la Croce Rossa per esempio, che ci ha segnalato tra l'altro il vostro lavoro per prima, il vostro lavoro e quindi anche l'analisi del vostro lavoro, ci ha portato a una, come dire, prima una riflessione e poi a una decisione molto serena e molto decisa, devo dire. È un atto che dimostra una presa di coscienza di un passato, che è un passato nostro e di cui è bene essere consapevoli. TV2000 ha fatto la sua parte perché grazie a un documentario suo ha riportato alla luce, o meglio ha fatto condividere con il grande pubblico delle vicende che ormai dal punto di vista degli studi, e penso soprattutto a quelli di Ian Campbell, è completamente ricostruita nella sua atrocità, nella sua freddezza e nella sua disumanità. È quello che oggi è Castiglione delle Stiviere, lo deve alla Croce Rossa, lo deve ai valori della Croce Rossa, lo deve a San Luigi Gonzaga. La nostra storia viene da quei valori e quindi certamente non poteva che incidere rispetto alla decisione.